Sullo sfondo i ragazzi giocano a pallone, chiacchierano, ridono, fornendo un ideale contorno al dibattito che va in scena sotto l'attenso struttura dell'Oratorio San Luigi, dove il vescovo emerito Monsignor Massimo Camisasca, il docente di filosofia Marco Lamanna e la neuropsichiatra infantile Sara Carugnola si confrontano sullo smarrimento di tanti ragazzi, sul buio che affligge molte esistenze, che a volte conduce all'isolamento, alla depressione, altre volte addirittura al suicidio. Temi forti, drammatici e necessari, stemperati da quella colonna sonora, gioiosa e spontanea, che al contrario mostra il volto più sano e splendido della giovinezza. Così, con un compatto inno al capolavoro della vita, comincia l'edizione 23 di Junior Sport, calendario di tornei e competizioni, spazi di incontro e condivisione, per riappropriarsi del senso di comunità, cercando una via che conduca alla consapevolezza e alla speranza, perché il bene più prezioso va coltivato, protetto e impreziosito a suon di vicinanza, empatia e presenza.